35 milioni di persone affette da HIV nel mondo ed ogni anno se ne aggiungono oltre 2 milioni, 240 mila, delle quali sono bambini. In Alto Adige il totale delle persone risultate seropositive dal 1985 al novembre 2015 è di 841. Al 21 novembre 2015 sono state riscontrate 14 nuove infezioni. Quest'anno ce ne erano 14 nuove infezioni di cui nessun tossicodipendente, c'erano 8 pazienti omosessuali e 6 eterosessuali, di cui bisogna dire 3 erano già in uno stagio avanzato e praticamente AIDS conclamata. Questi dati resi noti alla vigilia della giornata mondiale della lotta contro l'AIDS che si celebra il 1 dicembre. Come evidenziato dal primario del reparto malattie infettive Peter Mian, nonostante i progressi registrati nel trattamento della malattia e la scoperta di nuovi farmaci, è fondamentale dedicare una particolare attenzione all'informazione e alla prevenzione. 20 anni fa, quando uno era scoperto seropositivo, in pratica dopo 8-10 anni di media era morto. Adesso uno che si trova HIV positivo può arrivare a 80-90 anni senza problemi, basta che lui faccia regolarmente la terapia. Per limitare al massimo i rischi di contagio risultano decisivi una diagnosi ed un trattamento medico tempestivo. I test sulla presenza di HIV possono essere effettuati gratuitamente negli ospedali di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano. Dal 2012 l'associazione Propositive offre inoltre la possibilità di compiere un test rapido, gratuito ed anonimo, il cui risultato è disponibile nel giro di pochi minuti. Dal 2012 sono già stati effettuati 1.822 test di questo tipo ed in 14 casi si è verificata la positività.